Cosa vuoi ricevere un codice skin? Se anche devo ricevere anche tu ti do 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai a lasciare un bellissimo like In questo momento se vuoi ricevere anche un codice skin guys di Spider-Man 0 da parte mia Beh alcuni magari non possono permettersi il pass battaglia O qualcuno magari non ha una skin Stasera andrò a regalare un codice skin se questo video raggiunge 50 like Mi raccomando supportami con i codici codinggamer582 Ciao a pace il pass battaglia e tanto altro E inoltre pubblicato esattamente un XP glitch che ti aiuterà a livellare in questo passo G Se vuoi andarla a vedere vai ora a premere il codice lo schermo La copertina è proprio questa qua Quindi noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Bye